È nato a Bibiena ed è a Retino Doc, il primo bebè venuto alla luce in Toscana nel 2014. Eccolo, in questo completino bianco e azzurro, si chiama Tommaso Parigi, pesa 3,360 kg. Facendo bene i conti dovrebbe persino essere il terzo bebè nato in Italia nell'anno nuovo, ma a lui di sicuro del podio non importa molto. Se la dorme tranquillo, osservato con immensa felicità dalla mamma Federica Diotallevi e dal papà Gabriele Parigi, che dal nosocomio casentinesi ci hanno inviato queste splendide foto. È rosa invece l'ultimo fiocco del 2013 ad Arezzo. Sofia Palmarozza, secondogenita di mamma Simona e babbo Nicola, è nata alle 19.49 del 31 dicembre 2013 e pesa 3,150 kg. Sì, sì, alle 19.50. Ma proprio non ne vorrei sapere di... No, 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 ho provato ma niente. Quindi niente primato, anche se a suo modo è un primato anche qui. Sì, sì. E allora, tanti auguri. Grazie mille. Com'è andato il parto? Tutto bene? Tutto bene, sì, 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 è stato veloce. E la seconda figlia? Eh sì, è il secondo parto. Alessandro Rosati è infine il primo bebè venuto alla luce al San Donato di Arezzo nel 2014. È nato a mezzanotte e 58 e pesa 2,8 kg. Contentissima, felicissima. È il primo parto? Primo parto è andato bene, lungo ma stancante, ma bene. Quindi come ti si... Pesa 2,8 kg. Ecco, vedo che è tranquillo, adesso ha già mangiato? Sì, 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 ha già fatto la poppata. Come si è trovata qui al San Donato? Benissimo, veramente bene. Le ostetriche, i dottori sono tutti veramente gentilissimi, cordialissimi, quindi consiglio a tutti venire qua all'ospedale San Donato a partorire. In Val D'Arno, infine, ancora nessun nuovo nato nell'anno nuovo. L'ultimo è arrivato alle 11 e 16 del 31 dicembre ed è un maschietto. Grazie. 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 Grazie.